A febbraio la svolta, a luglio l'istanza per aprire il processo a carico dei presunti responsabili. L'omicidio di Serena Mollicone coinvolge anche il Molise perché la procura di Cassino, che ha riaperto le indagini dopo anni di depistaggi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri di Arce, per la moglie e per il figlio, Marco, titolare di un negozio da circa 15 anni a Venafro. Coinvolti anche due militari dell'arma che erano presenti quel giorno, il 1 giugno del 2001, nella caserma di Arce, lì dove secondo gli inquirenti avvenne l'aggressione brutale. Il reato ipotizzato è omicidio in concorso. Per i due carabinieri si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzzi e il favoreggiamento. Il procuratore di Cassino, Luciano De Manuele, ha spiegato i dettagli dei passi compiuti dal suo ufficio. Riteniamo di aver provato che Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce, si legge in un comunicato ufficiale, con una spinta contro una porta, data la riscontrata compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e la rottura di una porta collocata in caserma. Parimenti è stata accertata la perfetta compatibilità tra i micro frammenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima e il legno della suddetta porta, così come il coperchio di una caldaia della caserma. Il procuratore cita anche le dichiarazioni del brigadiere Tuzzi che nel 2008 disse di aver visto Serena entrare in caserma sette anni prima e di non averla più vista uscire e dalla ricostruzione fatta sin da subito pare che la diciottenne fosse andata in quel presidio dell'arma per denunciare il figlio del comandante. Sempre secondo l'inchiesta, dopo diverse ore la ragazza sarebbe stata trasportata in un campo, legata e imbavagliata sul corpo, vennero trovate tracce di percosse e la morte fu causata per asfissia. Accertamenti scientifici si sono abbinati alle dichiarazioni di 118 testi per la procura. Sono prove che consentono di sostenere l'accusa e di arrivare alla verità che la famiglia chiede da quasi due decenni. Grazie a tutti.